Pausa Primo comandamento, professionalità Questo è semplice perché oggi non c'è più professionalità in nessun campo Dalla mozzarella di bufala all'idraulici Quindi se ognuno sapesse fare il suo mestiere vivremmo in un'Italia migliore Compresi i nostri politici Secondo comandamento Si può trifare anche per una squadra di basket o di calcio senza violenza Lo sport è bello, portate i vostri figli al palazzetto dello sport Il terzo comandamento è appunto il silenzio Esiste nella musica una cosa che si chiama pausa Ma sarebbe bello anche a volte nella vita Si parla tanto e invece bastano anche poche note per fare una bella canzone Poche parole per dire un concetto senza essere promesso Quarto comandamento Salvaguardiamo un po' la natura Beviamo dell'acqua naturale senza consumare troppa plastica Quinto comandamento Quinto comandamento Cercate di usare i mezzi pubblici, anche i treni possibilmente Quando andate a vedere i concerti usate una macchina, non tre macchine Se andate a fare la spesa a dieci minuti di macchina da casa vostra Andateci a piedi Perché insomma in qualche modo si inquina di meno Quinto comandamento